Stiamo andando ai temi istruzionari, Genova sta iniziando il percorso per la città metropolitana, nuovo ordinamento del 1335, è partita anche la conferenza metropolitana. Che tipo di servizi, di cambiamenti ci saranno per i cittadini? Naturalmente sarà un passaggio importante, sul quale noi abbiamo scommesso molto, e il Paese sono vent'anni che aspetta le città metropolitane, perché crediamo che alcune realtà, e il genere uno di queste, possano in un contesto più grande dare servizi migliori a prezzi più competitivi ai cittadini. Crediamo che alla fine di tutto questo progetto i cittadini potranno essere meglio serviti e avere i loro diritti riconosciuti più facilmente. Questa è la scommessa, speriamo di farcela. Il terrorismo lei ha detto anche che il brodo di cultura determinato dalla crisi, dalle difficoltà che il Paese sta vivendo può costituire... Certo, certo, un attecchimento può dare... Purtroppo la situazione economica non è facile, e là dove c'è disagio, dove c'è malessere, però io credo veramente degli italiani, ci credo davvero.